Il problema di tutta questa pantomima che stiamo vedendo nel mondo e anche i disagi che viviamo è dovuta sempre a questioni economiche, ma non economiche come ideologia economica o come strategia economica. Economiche nel senso che ci sono poche persone nel mondo che hanno acquisito grandissimi poteri e quei poteri non li vogliono mollare e attraverso quei poteri vogliono governare il mondo a loro piacimento o magari come si sono alzati al mattino. Dispongono ovviamente di tutti gli strumenti, sono state privatizzate la maggior parte dei servizi pubblici, quindi se tu vuoi lo devi comprare da loro e non più lo Stato senza costi aggiuntivi, se non quelli della gestione, di qualche persona che ci guadagna. Non c'è una speculazione vera e propria, i social che sono sempre di proprietà degli stessi privati poi servono come strumento di propaganda e di dissuasione al pensiero divergente, piuttosto che al pluralismo eccetera eccetera, quindi soffocano il pluralismo e la protesta, il pensiero divergente, mentre invece fanno propaganda a tutto il resto, quindi hanno tutti gli strumenti per. Putin è uno di quelli che si era un po' opposto a questa modalità e tant'è vero che la sua popolarità nasce da questo, come ci spiegava prima Alessandro, perché Yeltsin si trovava un po' soffocato dagli oligarchi che stavano schiacciando il popolo russo e quindi è il nemico numero uno di questo concetto. Non era soffocato, era proprio il capo dei Sola, non è che fosse soffocato, Boris Yeltsin era il capo dei Sola, non era soffocato. Sì certo, lui aveva messo gli oligarchi che hanno depredato il paese e quindi poi Putin si è opposto, ha detto agli oligarchi a ridateceli sordi, no? Così gli aveva detto a ridateceli anche... Si è opposto in modo imprevedibile perché Yeltsin lo considerava affidabile. Io voglio citarvi un episodio che io conosco, che è quello del sommergibile Kurst, quando morirono 150 marinai a 150 metri di profondità. E sapete cosa disse allora Putin, che era stato messo lì ancora come oscuro, funzionare il KGB per parare il culo Yeltsin? Disse, non immaginavo che vi avessero ridotti così. Cioè quella cosa gli provocò una svolta nel cervello, come mi hanno spiegato degli amici russi. Capì che quel sommergibile arrugginito, senza manutenzione, lasciato dagli oligarchi, eri quelle condizioni, con quei 150 ragazzi con le magliette bianche e blu a strisce, morti soffocati perché non potevano essere salvati, gli fece svoltare il cervello. Alberto, insomma è questa la situazione, dacci il tuo pensiero e hai tutto il tempo che vuoi. Allora, innanzitutto posso dire immenso Alessandro, immenso. E' sempre un piacere ascoltare le tue visioni, no no, le tue visioni olistiche, globali, cioè poi che si possono ridurre però a un vecchio proverbio francese, se l'argent chi fa la guerra, no? Semplicemente questo. E di qui se la guerra chi fa l'argent, se l'argent chi fa la guerra e di qui se la guerra chi fa l'argent. E' il danaro che fa la guerra ma poi la guerra genera il danaro per quelli che poi la rimettono per fare la guerra e quindi è un circolo vizioso. E purtroppo ci dice che siamo immersi in una situazione veramente tragica, io non so, bisogna proprio uscirne con la speranza che succeda, come dice sempre Alessandro, il caso è che Dio intervenga nella storia. Comunque, scendendo a livelli un tantino più di sociologia immediata, l'altro aspetto drammatico che io sto notando, non solo io, voglio dire mai normale, è che la gran parte della gente purtroppo si fa comprare, ma si fa comprare su una quantità di piccole cose, e mica tanto piccole, per poter lavorare, per poter fare carriera, per poter raggiungere qualche risultato, bisogna comunque, quasi tutti, come si dice, hanno un prezzo. E quindi nella vita comune, tutti i scontri, come si è visto con la pandemia, soprattutto con la classe medica, e con la classe dei virologi, quanta gente si è fatta comprare. E poi anche quanta gente per bene, involontariamente, si fa comprare per aderire al pensiero comune, al pensiero diffuso dai mass media. E quindi questo è purtroppo, è molto più difficile non solo riproporre un'intenzione di ritornare a esercitare il senso critico, ma anche di essere un po' indipendenti. E invece questo oramai ci ha pervasi in una maniera, devo dire, colossale. E a questo si rimegna con l'educazione. E di nuovo io, avendo dei nipoti, vedo la differenza fra loro, che sono stati educati in una certa maniera, che ritengo corretta, rispetto ai propri compagni, che sono svagati, sperduti, perché non hanno ricevuto nessuna educazione, e dipendono totalmente dai videogiochi e dai social per i ragazzi. Grazie.